Cuori, il riassunto dell'ultima puntata. All'inizio dell'ultima puntata della Fiction Rai Cuori, Cesare chiede ad Alberto di operarlo. Vuole che sia lui ad effettuare il trapianto di cuore quando arriverà il momento. Nonostante sia piuttosto perplesso, accetta. Luisa purtroppo si trova ancora in manicomio e lo psichiatra le vuole effettuare l'elettroshock. Alberto la va a trovare, ma si sente tradita da suo fratello. Dato che le aveva promesso, sulla memoria del padre, che non l'avrebbe mai messa in un manicomio. Anche Cesare la va a trovare e la donna cerca di insinuare dei dubbi nel primario. Gli dice che come lei non si può affidare di Alberto, anche lui dovrebbe fare altrettanto. Ha tradito lei e sta facendo lo stesso con lui. Ovviamente si riferisce alla questione di Alberto e Delia, ma non è più esplicita di così. Nel frattempo arrivano pessime notizie dal Sudafrica. Il paziente del medico sudafricano che ha effettuato il primo trapianto al mondo è morto, dopo pochi giorni. Questo lancia Cesare nello sconforto, almeno in un primo momento. Riguardo a Mosca, decide di lasciare sua moglie per stare insieme ad Agatha, ma successivamente qualcosa cambia. La moglie gli dice che lo ama ancora e che è disposta ad accettare che lui abbia un amante, ma gli dice di non lasciarla. Potrebbero ben presto realizzare i loro sogni, dato che adesso suo padre, ovvero il suocero di Mosca, sta per diventare direttore sanitario. E così accade, il suocero diventa direttore sanitario e si pone, ovviamente, dalla parte del genere. Cesare aveva proposto all'ex capochirurgo di dirigere un'equip del trapianto, in particolar modo l'equip del donatore, e Mosca sembrava contento inizialmente, ma poi decide di fargli le scarpe insieme al suocero. Rivela al direttore sanitario che Corvara è gravamente malato. Virginia e Fausto si avvicinano nuovamente e si baciano, ma lui continua ad essere impegnato con Rosa. Il medico le sta molto vicino in questo momento difficile della sua vita. Triste per la malattia del padre, aveva deciso di non sostenere l'esame, nonostante fosse molto preparata, ma dopo aver parlato con Rosa, all'ultimo momento si presenta all'università. La sessione è già finita, ma il professore le consente di sostenere l'esame. Successivamente si rega in ospedale a ringraziare il medico e a dirgli che ha preso 28 all'esame, e tutto grazie a lui. Ma la felicità di Virginia, dovuta al successo universitario, viene ben presto interrotta. Il cuore di suo padre ormai non regge più e Cesare ha un infarto. Non è possibile effettuare il trapianto di cuore, e comunque non c'erano gli strumenti affinché avesse successo. Così Alberto e Delia decidono di prendere un'altra strada. Con l'aiuto della cardiologa, Ferraris opera il primario e amico. Pianta un cuore artificiale, e nel finale di questa prima stagione, Cesare si salva, ma è in coma. Si può dire quindi che c'è un finale aperto, e riguardo a Karen, la fidanzata di Alberto, si intuisce che è incinta, ma per ora non lo dice a nessuno. Insomma, tutti questi elementi in sospeso fanno ben sperare che ci possa essere una seconda stagione, anche perché la fiction cuori ha riscosso un enorme successo presso il pubblico del piccolo schermo.